E' un nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regine Immacolata Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovranna regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volete Divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei il benedetto a parole e donna e il benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Grazie. 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 Il tuo amore per liberarci dal volere umano. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, padre, tu che sei mio padre, tu che sei la vita vera, padre, padre, tu sei la mia volontà. Il tuo amore per la vita vera, padre, tu che sei la mia volontà. Il tuo amore per la vita vera, padre, tu che sei la mia volontà. La vita vera, scritti di Luisa, volume 8, 8 gennaio 1909 e volume 9, 4 novembre 1909. Per stringerti più stretta con me, fino a giungere a sperdere il tuo essere in me, come io lo trasfondo nel tuo, devi in tutto prendere ciò che è mio e in tutto lasciare ciò che è tuo. In modo che se tu pensi sempre a cose sante e che solo riguardano il bene, l'onore e la gloria di Dio, lasci la tua mente e prendi quella divina. Se parli, se parli, se operi bene e solo per l'amore di Dio, lasci la tua bocca, le mani e prendi la mia bocca e le mie mani. Se cammini le vie sante e rette, camminerai con i miei stessi piedi. Se il tuo cuore amerà solo me, lascerai il tuo cuore e prenderai il mio. E mi ammerai col mio medesimo amore. E così di tutto il resto. Sicché tu resterai rivestita di tutte le cose mie e Dio di tutte le cose tue. Che metto io stesso in te e che sono mie. Ci può essere più stretta ognuno di questa? Lui si giuisce di questo sospertarsi in Gesù. Avendo fatto la Santa Comunione, stavo dicendo al mio adorabile Gesù, già sono stretta con te, anzi immedesimata. Se siamo già una cosa sola, io ti lascio il mio essere in te e vi prendo il tuo. Quindi, vi lascio la mia mente e prendo la tua. Vi lascio i miei occhi, la mia bocca, il mio cuore, le mie mani, i miei passi. Ed io ho detto a Gesù, oh, quanto sarò felice da ora in poi. Pencerò con la tua mente, guarderò con i tuoi occhi, parlerò con la tua bocca, ti amerò con il tuo cuore, opererò con le tue mani, camminerò con i tuoi piedi. E se qualche cosa mi accadrà di contrasto dirò, il mio essere l'ho lasciato in Gesù ed ho preso il suo. Andate da Gesù che vi risponderà per me, oh, come mi sento beata. Ah sì, anche la tua beatitudine vi prendo, non è vero Gesù? Leggiamo anche il principio di gennaio 1907, volume 7. Figlia mia, dice Gesù a Guisa, la vera e soda santità consiste nel ricevere, come specialità d'amore divino, tutto ciò che all'anima può succedere o fare, fosse anche la cosa più indifferente, come sarebbe se trovasse un cibo gustoso o disgustoso. Specialità d'amore nel gusto, pensando che Gesù produce quel gusto nel cibo, che l'ama fino a darle gusto anche nelle cose materiali. Specialità d'amore nel disgusto, pensando che l'ama tanto che le ha prodotto quel disgusto per assomigliarla a sé nella mortificazione, dandolo a lui stesso una monetina da poter offrire a lui. Specialità d'amore divino, se è umiliata e se è esaltata, se è sana e se è inferma, se è povera o ricca. Specialità d'amore divino, il respiro, la vista, la lingua, tutto, tutto. E siccome è tutto, tutto deve ricevere come specialità d'amore divino. Essa deve ridare tutto a Dio, come uno speciale amore suo, sicché deve ricevere l'onda dell'amore di Dio e deve dare a Dio l'onda dell'amore suo. Allora, da questi brani che mi hanno detto penso che la sintesi si tragga da un'espressione divisa o quanto sarò felice d'ora in poi o anche o come mi sento beata. se qualcuno è cominciato ad entrare in questo mondo tutto divino di vita divina non può non vivere nessun'altra disposizione e sentimento interiore che questi nel primo brano abbiamo trovato un termine chiave della vita nella divina volontà che è il termine sperdere vivere nella divina volontà vuol dire perderci e sperderci se siano ancora più grande in Gesù o ricordando sempre quello che ho detto ieri in Maria o nella divina volontà si possano tranquillamente considerare come sinonimiche queste tre cose il termine chiave è sempre in devi in tutto prendere ciò che è mio e in tutto lasciare me lasciare ciò che è tuo se noi ci sperdiamo in Gesù lui trasfonde il suo essere in noi allora nella spiegazione che Gesù dà si comprende molto bene una cosa e il passaggio ulteriore che c'è tra l'essere nella volontà di Dio e il fare la volontà di Dio però l'essere presuppone il fare riprendendo alcune espressioni se tu pensi sempre a cose sante e che riguardano il bene l'onore e la gloria di Dio lascia la tua mente e prendi quella divina ovviamente se pensi a cose sante o che riguardano il bene o che riguardano l'amore e la gloria di Dio quindi sperdersi nella divina volontà pensando vuol dire pensare queste cose e unite la divina volontà a pensarle con la mente di Gesù o con la mente della divina Maria la stessa identica cosa vedete anche come dice di parlare se parli se operi bene quindi se parli bene se operi bene e solo per l'amore di Dio lasci la tua bocca le mani e prendi la mia bocca e le mie mani come si fanno queste cose l'abbiamo già visto molte volte viene divina volontà nel mio pensare viene divina volontà nel mio parlare viene nel compiere questo gesto quest'altro gesto quest'altro gesto no? opere buoni o anche opere indifferenti che possono e devono essere santificate non tutte tipo il camminare tipo il lavarsi tipo il vestirsi il dormire il respirare il battito delle ciglia il battito cardiaco la circolazione del sangue il movimento degli atomi no? per esempio pensate che grande atto d'amore faremmo se noi facessimo questo piccolo giro nel nostro corpo basterebbe dire viene divina volontà e io attraverso di te mi unisco a tutti gli atomi di cui è composto il mio corpo umano e metto un diamo per ogni atomo e te lo offro non mi amico di tutta l'umanità sono tanti gli atomi che abbiamo fuori nel corpo nostro abbiamo offerto non so quanti trilioni di trilioni di triliardi di atti di amore soltanto con un atto di questo genere si presuppone il bene e si tratta di farlo nel massimo grado di meritorietà possibile cioè farlo come atto divino e non come atto umano se cammino le vie sante e rette vedete anche qui se lo sto camminando per andare a un luogo di perdizione non posso giustamente un'impeadina volontà ma se cammino con le vie sante e rette si cammina con i stessi piedi ma anche quando il nostro cuore ama e Gesù dice se ami solo me in questa espressione amare solo me che vale per tutti non soltanto per i monaci e la monache Gesù intende l'amore assoluto che per tutti gli esseri umani anche per chi è sposato per tutti ha come un unico termine Gesù ci sono state tantissime sante anime pensiamo a una vissuta poco tempo fa a morte al concetto di santità che era una ruzza la ruzza era sposata con 5 degli gli amori santi umani che non soltanto che non sono la negazione dell'amore assoluto divino ma ci devono essere perché un'amore che ama tutti ama d'accordo? e vive l'amore in tutte le dimensioni però con Gesù e con Maria è un'altra cosa quindi sono proprio due livelli differenti loro e il resto e in questo resto se si vuole entrare in questo mondo tutto divino il resto è tutto sono anche gli affetti più santi che esistono se il tuo cuore amerà solo me lascerai il tuo cuore e prenderai il mio e mi amerai con l'inesimo mio amore e così tutto il resto è interessante poi vedete c'è uno scambio i termini che Gesù usano nel Vangelo di San Giovanni tante volte abbiamo già detto che la divina volontà non è esplicitamente rivelata nella Sacra Scrittura ma la traversa da capo a fondo in combinazione se un giorno una chiesa dovesse dare il placet quindi riconoscere davvero in tutte e per tutto queste cose farà come è successo per altri per esempio nel dogma del Magalato Concezione il Magalato Concezione non è certito nella Bibbia che c'è stata ma ci sono le spie rimanete in me ed io in voi immagini che Gesù fa dell'essere in noi prendiamo tutto da Gesù però prima che siamo sperduti in lui e la cosa impressionante è che lui le prende le cose nostre tu resti di vestire di tutte le cose mie ed io di tutte le cose tue che metto io stesso in te che sono mie che poi in realtà tutte le cose che noi abbiamo e che dobbiamo comunque donargliere perché se non gliele doniamo noi le reclamiamo come nostre non le riconosciamo come sue e invece vanno accolte e ridonate perché tutto quello che siamo tutto quello che abbiamo è tutto da lui non esiste nessun testimone quanto la divina Maria dell'essere nulla essere nulla non vuol dire non avere l'essere d'accordo perché l'essere ce l'abbiamo ma riconoscete che tutto ciò che siamo ci è stato donato e che non ci appartiene lo sperdersi in Gesù è la fonte della gioia io spero che lo spirito santo a molti o a pochi che ascolteranno queste piccole riflessioni che sono poi un commento di cose ben più grandi di me siete la comunione cosa dice Luisa sulla comunione che andrebbe fatta non come Dio comanda ma di più se siamo già una cosa sola io ti lascio il mio essere in te mi prendo il tuo ti lascio la mia mente prendo la tua i miei occhi la mia bocca il mio cuore le mie mani i miei passi penserò con la tua mente guarderò con i tuoi occhi parlerò con la tua bocca ti amerò con il tuo cuore parlerò con le tue mani camminerò con i tuoi piedi bellissimo addirittura se qualunque cosa accada andate da Gesù che vi risponde per me e poi questo è spettacolare l'ultimo scritto quello del 1907 quello sulla vera e sua da santità ricevere come specialità d'amore divino tutto ciò che l'anima che all'anima può succedere può fare fosse anche la cosa più indifferente è bellissimo il tuo stile uno spettacolo unico al mondo mangi ricordati quando mangi di ricevere il tiaun di Dio in tutti quanti i gusti che provi e di ricambiarlo digiuni perché è volontà di Dio che così si faccia e unisci al digiuno dei 40 giorni che Gesù ha fatto nel deserto ti capita una cosa brutta vabbè specialità d'amore nel disgusto si unisci a Gesù e alla sua passione capisci che in quel momento la divina volontà vuole quello da te qualcuno in macchina ti lancia un bel insulto ti fa un gestaccio benissimo ti unisci a tutte le indicazioni che Gesù ha ricevuto durante la passione gli hanno dato ben peggio che il gestaccio con animo imperturbabile quindi riconoscendo vedete come viene nella divina volontà implica anche una visione tutta divina delle cose non umana in ogni minimo dettaglio di quello che c'è accade specialità d'amore di chi non si è umiliata e si è esaltata ci sono alcune persone ovviamente in buona fede che agiscono con retta intenzione che se qualcuno gli dice bravo guarda questa cosa l'hai fatto proprio bene se ti dicono bravo tu accetta il bravo d'accordo è un momento in cui il signore ti dà un anticipo del bravo che ti dirà lui tu non lo attribuisci a te stesso perché non viene da te non ti esalti non ti inorgoglisci ma te lo prendi e dici grazie se te lo dicono dici grazie stai bene e ringrazia il signore si vede che il signore ha bisogno della tua salute per avere gloria ti viene un tumore ti stendi al letto Dio ha bisogno della tua malattia della tua offerta della tua sofferenza sei povera benissimo Dio ha bisogno della tua umiltà che tu vieni alla precarietà che chiedi aiuto al prossimo che chiedi le nemosine d'accordo la Francesco l'ha fatta apposta a fare una cosa di questo genere ha vivuto una vita lui che era ricco chiedendola la nemosina Gesù durante i tre anni di vita pubblica andava a nemosinare il cibo i soldi perché non ce li aveva e spesso e volentieri un posto dove dormire qual è il problema sei ricco? benissimo si vede che il signore si fida di te e ti concede le ricchezze perché tu ne faccia uso per la sua gloria basta stai respirando adesso e chi è che ti concede di respirare? è Dio hai gli occhi aperti vedi i colori vedi le forme vedi chi ti sta intorno questa è specialità d'amore figlio mio e figlia mia hai la lingua per parlare o per gustare specialità d'amore divino tutto tutto dice e siccome tutto è specialità d'amore divino tu tutto devi ricevere come specialità d'amore divino è tutto un problema però di ricevere queste cose così perché tutti gli uomini hanno gli occhi respirano hanno la vista parlano mangiano bisogna vedere come fanno queste cose la vita nella divina volontà è una trasformazione totale del nostro interno non cambiano le cose esterne che si fanno o forse cambiano un pochino ma non vengono a nostra volta ma si tratta solo di ridare tutto a Dio come uno speciale amore suo di rendere il conto accambio noi ci nomineremo di Dio e questo vuole Dio quando ci sentiremo completamente travolti dal suo amore lo dice Gesù deve ricevere l'onda dell'amore divino non è l'onda l'onda bisogna pensare alle onde degli oceani quelle cose che se ti scascano addosso sono da 5-6 metri e ti 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 travolgono ma deve dare a Dio l'onda dell'amore suo Dio vuole il ricambio d'amore quindi tutto il servito della santità e della vita e della divina volontà consiste nell'imparare a riconoscere gli infiniti chi amo di Dio di cui siamo circondati anche se stessimo conducendo la più feriale comune e ordinaria della vita e ordinaria vita e ricambiarli uno per uno in continuazione questo significa essere felici chi impara a fare questo qui tutte le forme malate degli esseri umani che passano la vita a cercare la vita dove la vita non c'è ho usato vita tre volte quattro parole insomma a cercare di rubare un po' d'amore a destra e a sinistra e lemosinarlo essere pronti a fare qualunque cosa pur di avere una brissura d'amore non esiste più un miliardario non va a lavare i vetri per strada gli uomini passano la vita a lavare i vetri per strada tutti nessuno escluso sperando che qualcuno gli ripaccia la va e gli dia 50 centesi questa è la vita della quasi totalità degli esseri come e tutti sarebbero il conto corrente ultramilionario con cui fare una vita una gran signora questo è ma se uno ci pensa più tempo passa più lo vedo la rivelazione non dice altro che questo secondo la guarda bene quindi è bellissimo vedere come queste cose non sono altro che esplicitazioni stupende focalizzazioni bellissime ma sono cose a cui se uno ci pensasse bene 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 almeno ad alcuni ci potrebbe arrivare certo un po' difficile sarebbe arrivare a all'essere della divina volontà questo forse sarebbe un po' difficile ma il resto ci si potrebbe piano piano arrivare bene facciamo il minuto di silenzio solito e poi concludiamo la meditazione un po' difficile un po' difficile un po' difficile un po' difficile Grazie. 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 Tutta la tua vita terrena fu un continuo sperderti in Dio e darti tutto a Lui e tutto riceverlo. Un'interrotta gara di amore tra te e Lui. Non è dato a creatura mortale di poter penetrare in questo mistero immenso di Dio che si trasturlava nel suo capolavoro sfogandosi in tutto e per tutto, ricoprendoli di tutto e per tutto. E sentendosi ricambiato in maniera tale da sussultare nella sua divinità. Tu hai potuto competere con Lui in questo. Insomma, ce ne vuole un po'. Bene, facci comprendere come in questo c'è tutto. E come se la nostra vita questo non diventa. Siamo sempre molto al di là di ciò che Dio è e di ciò che Dio vuole. Come ho detto della giornata, possiamo ripensare alla frase di Pisa, o quanto sarò felice d'ora in poi. In questa frase è concentrare un po' la sintesi della meditazione di oggi sullo sperdersi in Gesù e su che cosa è la vera e soda santità. Che anche questo corregge non poco i nostri schemi mentali, forse anche buoni, ma sempre molto ristretti e limitati. Divina Volontà Sperdimi in te. 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 Fiat Ave Maria. Fiat Ave Maria.